Questa per me è una pista nuova e stamattina subito il primo turno di prove libere ho finito in quarta posizione. La pista era umida però ho iniziato a imparare la pista gradualmente e mi piace molto, è una bella pista. Beh, devo essere sincero, è proprio bella per i saliscendi che ci sono, tutti i dislivelli. Avevo guardato qualche onboard camera ma non si vedeva così molto il dislivello e girarci è veramente fantastica. Forse proprio per i saliscendi e diciamo per la parte più lenta l'Audi forse potrebbe avere qualche vantaggio, in più se avremo anche la pista bagnata quello sicuramente ci aiuterà.